Una fide armonica e tanti motivi. Raffaele agli fide armonicisti giovani a cura di Salvatore Pigli. Ospite a Diorno è Aida Incani, una giovane fide armonicista cagliaritana. Da diversi anni frequenta i corsi della scuola Fidi di Cagliari e fa parte della fide orchestra della associazione Sarda Amici della Fide Armonica. Rededizia in generale una musica moderna. Il primo motivo che ci farà scosare si titola Lina, di Corino. Lina, di Corino. Lina, di Corino. Lina, di Corino.